Salve a tutti, buongiorno, come state? Finalmente è arrivata Pasqua e finalmente si comincia a vedere qualche giornata buona e di inizio ancora non è estate ma siamo entrati perfettamente in primavera il freddo è finito, almeno qua in Sicilia e spero che state tutte bene sicuramente ancora non siamo fuori pericolo anzi come ho sentito in questi giorni il virus aumenta ancora il numero di infettati e spero che passi questo mese come l'anno scorso in cui poi tutto è finito come se fosse che non c'era più niente e quindi almeno ora siamo arrivati che c'è il vaccino e vi anticipo che io farò il vaccino a breve perché ho una patologia che mi dà diritto ad averlo prima degli altri però ancora passerà tempo, non so quando e spero di poter documentare la cosa se riesco quindi già ve lo dico in partenza io farò il vaccino con tutti i pericoli che si parla di queste possibilità di trombosi ma io penso che comunque qualsiasi tipo di farmaco anche una semplice aspirina ha effetti collaterali che possono essere gravissimi e quindi per la salute in generale è giusto farsi il vaccino quindi finiamolo con questi complotti ora non lo so, è venuto in secco anche ad aprire il discorso comunque va bene, ritorniamo a quello che dicevo prima vi auguro una serena Pasqua domani non vi riunite, non fate i soldi lunedì di Pasqua che si facevano prima del virus state attenti, state molto attenti quindi non vi avvicinate a persone, a famiglie non vi riunite, state solo, esclusivamente con i familiari più stretti e vi date contatti, vi date baci, vi date tutto basta solo stare insieme e passare una bella giornata con i propri cari vi saluto a tutti e vi auguro ancora una felice e serena Pasqua ciao